Grande forza ritmica, energia e imponente timbro musicale da Black Music. Il concerto di Roma conclude il giro italiano e ripropone un mix di tutta la sua produzione. Gli inizi meglio di oggi, ma nel complesso una storia di talento e determinazione. Da Broadway, dove mamma faceva l'attrice e papà il cantante, Anastasia muoveva i suoi primi passi dopo aver superato una malattia che l'ha resa più forte. Mai mollato nella sua vita, nemmeno di fronte al tumore che è riuscita a sconfiggere. Un talento e una personalità che è difficile dimenticare dopo averla sentita cantare.